Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Bra in provincia di Cuneo e questa è la chiesa di Sant'Antonino abbiamo un concerto di tre campane e guardate qua, degli splendidi ceppi in legno, le campane sono a corda come potete vedere e vengono utilizzate tutte le domeniche e tutti i giorni qui viene celebrata la messa è un raro esempio credo di campane ancora con ceppi in legno che suonano, quindi veramente una chicca adesso verranno suonate le campane per la messa e riprenderò la distesa completa che appunto suonerà alle 9 e mezza per la Santa Messa delle 10 di oggi, domenica 24 aprile, quinta domenica di Pasqua a presto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.